Con la firma della transazione si chiude il capitolo Gioambiente per il Comune di Scalea. La ditta aveva gestito il servizio per otto mesi, dal 1 gennaio 2011 al 21 agosto dello stesso anno. Un lungo contenzioso che lo scorso 15 gennaio si è chiuso con la sottoscrizione dell'atto pubblicato sull'albo Pretorio Online quattro giorni fa. Il Comune di Scalea ha messo in ordine i conti e ha pattuito con l'azienda alla montare delle somme ancora dovute e le modalità di pagamento. Il debito con la Gioambiente SRL è pari a poco più di 724.000 euro. A settembre 2012 la ditta aveva ricevuto un acconto di 23.585 euro, cifra che è stata decurtata dall'importo totale. Ad oggi si legge sulla determina la somma da pagare a monta 701.268 euro, da corrispondere in 18 rate mensili dell'importo di 38.959 euro ciascuna. L'amministrazione Basile con la deliberazione di giunta del 19 dicembre 2012 aveva riconosciuto il debito che con la transazione trova copertura finanziaria per 254.000 euro negli impegni di spesa già assunti dal servizio di salvaguardia ambientale e manutentivo. Soldi che saranno utilizzati per pagare le prime 5 rate del 2013 da marzo a luglio e parte di quella di agosto. Altri 159.170 euro saranno pagati da settembre a dicembre 2013 per saldare definitivamente il debito ad agosto 2014. Per le ultime 8 rate previste dalla transazione il Comune dovrà sborsare circa 312.000 euro. Restano invece da sistemare i conti con l'avvenire SRL, il Comune deve alla ditta circa 700.000 euro. Di questi 111 spettano gli addetti alla raccolta dei rifiuti che devono ancora ricevere lo stipendio di giugno 2012, 13esima, 14esima e il TFR maturato.